Pensavamo di conoscere tutto sulla sua vita, che fosse stata una sorta di Garibaldi della bicicletta perché aveva unito l'Italia, pur dividendola nel tifo tra lui e Fausto Coppi, moltiplicandola nelle fantasie e nei sogni, colorandola nel momento della sofferenza e della miseria. Per tanti anni l'abbiamo creduto e invece c'era dell'altro nella vita di Gino Bartali. C'erano sfumature eroiche, c'è questa storia che è proprio lui, l'eterno brontolone del ciclismo, a cui piaceva dire stradire, non raccontò mai per scelta. Certe cose si fanno e basta, spiegò una volta, a chi gli domandò il perché. Ho vissuto per quasi 25 anni nelle Marche, a Macerata e nel Maceratese, quindi con papà la superstrada che fa da Foligno a Perugia, l'abbiamo fatta migliaia di volte, ma avesse detto qualcosa. Bartali ero è silenzioso che non rimase a guardare, ma decise di schierarsi quando a farlo si rischiava la vita. Bartali che trasportava segretamente falsi documenti di identità per sottrarre i cittadini ebrei alle deportazioni nazisti ai campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. Documenti nascosti nella canna del sellino, dentro il manubrio, nei tubi del telaio. Carte di identità con cognomi falsi di quelli che fanno pensare a vite di provincia, noiose e ripetitive, pochi fogli avvolti con cura che significavano la salvezza per coloro che da un giorno all'altro venivano arrestati, deportati, uccisi per il tolto di chiamarsi Levi Cohen, di essere ebrei. A sfornarli questi miracolosi pezzi di carta era una minuscola tipografia di Assisi. Bartali faceva la spola naturalmente in bicicletta, portava il malloppo a Firenze e poi ritornava con altre indicazioni. 82 chilometri che lui percorreva come fossero allenamenti, invece erano viaggi, avventure, pericoli e rischi, avanti e indietro. La sua faccia era un passaporto, un salvacondotto, un lascia passare. Tante volte era fermato anche ai posti di blocco, però siccome come sportivo lo conoscevano perché aveva già vinto un Giro d'Italia nel 1936, un altro nel 1937, il Giro di Francia nel 1938, diverse Milano-Sanremo, era un uomo che aveva fatto delle importanti vittorie, per cui a un certo momento lo fermavano perché i posti di blocco erano fatti da ragazzi praticamente sportivi, più per parlare con lui di sport che non per perquisirlo, insomma, tranne un paio di volte. E lui si fermava, però dopo un minuto diceva ragazzi, io sono sudato, se mi raffreddo prendo una pulmonite e lasciatelo andare via. E andava sempre via. Gino era solo un elemento, per quanto utile, di un meccanismo più grande. La comunità ebraica, clandestinamente, si era rivolta agli ambienti cattolici per chiedere aiuto. A Firenze la catena di solidarietà faceva direttamente capo al cardinale Elia Dallacosta. Fu proprio Dallacosta a ingaggiare Bartali che accettò senza porre domande. Accettando di fare la staffetta. Come se non bastasse, vi aggiunse un'iniziativa propria, nascondendo una famiglia di ebrei fiumani, i Goldenberg, in una cantina di sua proprietà e lì li tenne al sicuro. Negli anni successivi Bartali non parlò a nessuno di quei viaggi clandestini, poi decise di confidarsi con suo figlio Andrea, con la promessa di non raccontarla in giro. Così fu solo dopo la sua morte, nel 2000, che la vicenda ha cominciato a trapelare. Nel 2006 è giunta la medaglia d'oro alla memoria civile. In queste ore il riconoscimento più bello, Gino Bartali, il grande campione di ciclismo, è stato dichiarato giusto tra le nazioni, dal Sacrario della Memoria di Yad Vashem di Gerusalemme, il museo dell'Olocausto.